Missione compiuta, Antonio Tutolo conquista un posto nel Consiglio regionale. L'ex sindaco di Lucera, dimissionario a luglio in cassa, oltre 7.000 voti in provincia di Foggia nella lista con a sostegno di Emiliano. Ringrazia tutti e si appresta a cominciare una nuova avventura rappresentando le istanze della Capitanata. Alle spalle tanto coraggio per aver lasciato un mandato di 4 anni a Palazzo Mozzagrugno e una campagna elettorale molto easy fatta di un passeggino, un megafono e il solito contatto stretto con la gente. Io sono onorato e felice di rappresentare questo territorio. Lo farò con tutto me stesso e con tutto il cuore. Quindi grazie davvero a tutti quelli che mi hanno onorato della loro fiducia. In agenda i primi punti per onorare i voti, soprattutto dalla zona dei Monti Dauni, quali sono? Ma ce ne sono tanti, ma veramente ce ne sono tanti. Quindi sono certo che si lavorerà bene, si lavorerà in sintonia e faremo belle cose, sono fiducioso. Tutolo può essere un degno rappresentante di quella zona della Capitanata? La conosce bene, d'altronde? Io lo spero. Poi saranno i cittadini a giudicare, come giusto che sia. Diciamo che ancora una volta mi hanno dato affetto i miei cittadini, perché i miei sono quelli, sono voti di affetto che mi hanno dato. E quindi io per nulla al mondo tradirò quell'affetto. Sarei veramente una brutta, brutta, brutta persona se lo facessi. Io sono grato a loro già per quello che mi avevano dato. Questa volta ancora di più e, ripeto, onorerò quella fiducia. Grazie. 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 Grazie.